E' una bella iniziativa, la possibilità di confronto con le altre esperienze di Gallo nel nostro paese dove emerge anche il grande cambio di passo che abbiamo registrato nella nostra regione, che abbiamo provocato nella nostra regione con anche l'evidenziazione di alcune best practices che sono davvero importanti. I Gallo devono diventare davvero agenzie di sviluppo territoriale, devono trascinare i territori ma per fare questo devono avere competenze, know-how e management adeguato. E' quello che vogliamo determinare noi in regione Campania, abbiamo stimolato da questo punto di vista un processo costruttivo e spero che nell'arco di poco tempo possano davvero essere attori non solo della strategia agricola ma anche di una strategia complessiva dei territori.